Il sindacato 2.0 innanzitutto e quindi si rifà un po' il punto anche di quello che dovrebbero diventare in un certo senso i sindacati. E poi il tema del welfare che oggi è molto sentito dalla popolazione. Noi abbiamo negli ultimi tempi rinforzato la nostra azione di confronto e contrattazione con i comuni perché abbiamo anche degli strumenti per misurare qual è l'impegno sociale delle comuni. La Confederazione si è data uno strumento di monitoraggio a livello nazionale e noi lo stiamo utilizzando. Questo è un campo di azione molto importante. Non si parla solo di aumentare i soldi nelle buste paga, si tratta anche di avere dei servizi di qualità a prezzi giusti. Poi abbiamo sentito la relazione anche della Cigella, adesso c'è quella della Will, quindi l'unità dei confederali è sempre un tema molto attuale. È attuale perché l'abbiamo sperimentato anni e anni di divisioni, in un momento anche di crisi e difficoltà. Speriamo in un futuro migliore, migliori relazioni tra di noi e anche in una ripresa del Paese. Penso che siano elementi entrambi necessari per rilanciare la nostra azione a tutela del lavoro. Hai ragione.